Ti prendo il volo, ti prendo il volo, ti prendo il volo No, non ti prendo il volo Scusa Oddio! Scappa! Di fianco, ce l'avevo! AAAAAH! C'è il pipino di fuori! C'è il pipino di fuori! AAAAAH! Ecco, cartucce dentro... L'armadietto della posta, ci sono le cartucce Andate alla posta, aprite gli armadietti, vedete? Trovate le cartucce Comunque ragazzi, tra poco i zombie, eh Che poi non sono in realtà degli zombie, sono sempre dei mostri affetti da plagas Però sono troppo spaventosi, poi vedrete Camminano come i zombie, lentissimi, poi alcuni sono un po' più veloci E vanno colpiti nei punti esatti perché sennò nada Welcome! Non ho capito, ma nel dubbio assorata Ottimizza Io non so neanche che cazzo c'ho nell'inventario, come faccio a comprare Ma questo... Ah, Ottimizza è qua, lol Compra Gibernaggio È bello sentirsi al sicuro con questo giubbotto protettivo Riduce i danni subiti del 30% E beh, cazzo cazzo io, serve Serve, serve, compriamolo Ma se non sbaglio sono solo dei riduci danni subiti Ah, tutti i danni Bellissimo Figo Pensavo solo quelli da... Da sparo, insomma Perfetto Certo Ma thank you a te Thank you di pugno E che compriamo? E che dobbiamo... Non c'ho un cazzo Se mi fai uno sconto, me lo fai uno sconto, stronzo No, eh Accresce la potenza di fuoco oltre la soglia massima dell'arma Detto così sembra che ti fa tipo... Diventa la pistola un bazooka Accresce la potenza di fuoco oltre la soglia massima dell'arma Superando il livello 3 di Super Saiyan Wow Allora appena i soldi torno Strons Mmm Ah, qua mi ricordo Mi ricordo Eccoli Che testo di cazzo Loro amano giocare con i fuochi d'artificio Allora giochiamo con i fuochi d'artificio Va bene Se popo piace a voi Vai Ahahahah L'hai risata alla Peter Griffin? Eh 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 Hanno aperto di nuovo? No, ma sono morti Cazzo gli ho buttato una granata sotto i piedi Ancora Oh oh La puttana di sorda Leon Silento come una ciuccia Vai buttate di nuovo Puttà Ma quante munizioni devo spregare? Sono più imbottiti loro di me Ancora Rutto cazzo Uh Apri Eh Mi dispiace Mi dispiace per te Che cazzo era? Ah forse gli era uscito il verme Vabbè Che devo fare qua? Ah ce n'è un altro Oh Oh Via 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 Leon Oh my god Ma guarda quanto soddisfettosi sti bambini Vai 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 A giù ci mamma da Ma che gittata di merda che hai Leon Vai Oh Ma allora si popacornuto Non ce la fa Leon purtroppo Non ce la fa Prendiamo il cecco Ah no il cecco No Non abbiamo tante di munizioni di cecco Quindi prendiamole Prendiamo il cecco Vai Aprite Aprite che vi aspetta Uno è morto Ecco se magari non avessi la gittata di mia nonna Cioè la La precisione di mia nonna Magari riuscirei anche ad ammazzarli E crepa Vai un altro Vai Ecco è morto L'avete voluto voi Ecco se ora avete finito di scasciare un cazzo Aprendo e chiudendo la porta Io magari entrerei Grazie Che è sto rumore Eh te pareva Eh te pareva Munizioni di mitra Calcio Vi posso chiedere una cosa ragazzi Però dovete rispondermi sotto il video Mi raccomando Commentate Perché sono veramente curioso Perché dico O sono solo io O ci sono anche altre gente che la pensa come me Allora La cosa che dico io Sia nel 4 che nel 5 Ha un grosso difetto Si inizia talmente bene Tipo Vi faccio un esempio Il 4 si parte in un villaggio Bello Misterioso Scuro Eh Munizioni Tutto Tutto bello Perché comunque l'ambientazione è bella Ti trovi in un Un paesaggio sperduto In Spagna È bellissimo Idem nel 5 Ti trovi in Africa Poi lungo andare Il gameplay si rovina Perché verremo Perché verremo catapultati Sia nel 4 e nel 5 In zone industriali Addirittura nel 5 Su una barca di merda Dove durerà tipo Metà gameplay Sulla barca O su delle cose petrolifere Cioè stupide Capito Cioè è più bello Quando l'ambientazione è Avete capito No Cioè tipo In Africa O addirittura Nei villaggi Nei boschi Eccetera Invece no Perché poi perde anche Di atmosfera Scusate Di atmosfera Di atmosfera horror Sì appunto Che è qua Sto posto Non mi piace per niente Sto posto Non mi piace per niente Ovunque gioielli Sono ricco Ah è vero Potevo vendere gioielli Al mercante Scusate C'è stata una piccola interruzione Allora Ripartiamo Dove cazzo Oddio mi sono intracciato Tutti i cavi Ok abbiamo salvato Sì credo Spero Andiamo Allora dicevo Questo luogo Non mi piace per niente Qui c'è una porta E qui Che palle Odio i bivi Cioè i bivi Si così dice Il bivio No Ma perché lo ti sta zitto E' meglio Fate l'interruzione Scusatemi tanto Allora Ah Questa era la Questa era la Porta che era chiusa Dall'altro lato E quindi Non dobbiamo andare Di là Perché non serve Qui dobbiamo andare Dritto Sì Sì Andiamo Operating room Avete visto? Ci siamo Ci siamo I zombie Che poi Sono peggio dei zombie Ve l'ho già detto Ho già paura No Aspetta Dobbiamo andare Dal mercante Dobbiamo andare Dal mercante Perché Sì 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 Hey welcome To back Dove sei Ah Non sta qua Quindi dobbiamo tornare indietro Insomma E lui dove stava Vediamo la mappa Perché vi spiego Questi Fra virgolette Zombie Hanno Sotto pelle I componenti Gli organi fondamentali Per ammazzarli No bugia Sono dei plagas Dei vermi dentro E quindi per Wow Che cazzo Che cazzo ci fai tu qua E tu Ti voglio ammattar Ma va a cagare tu e tua madre Oh 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 Maronna quanti colpi ti stai a pigliare Oh e crepa E c'è cazzo Guardala ancora Inza lo culo Guarda tutte le munizioni Mi ha fatto fregare St'animale Magia Tutte le mun Tutte le ciur Tutte le mun Tutte le ciur A secondo è andato Secondo tentativo Eccolo dove sta Ok Ok Io spero per te Che tu abbia Quello che cerco Perché se no Sono fottuto Infrastaminchia Infrastaminchia Non è questo Non è questo È questo Telescopio lanciamine No Cazzo non ce l'ha Tu puoi vedere meglio I nemici lontani Faci Non c'è cittata Montato per vedere Forse l'ho già comprato Forse Forse l'ho già comprato No Di più Sempre 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 di più Operation Room Qui intanto Si può saltare giù Ho paura Ho paura Motto Quanto è brutto Avete visto La gente Cosa 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 Hai visto No niente ragazzi Dicevo Avete visto Quanto è brutto Il luogo Oddio Guardate là È chiusa Mi serve una scheda D'accesso La porta è molto fredda Deve essere una cella frigorifera No ma va Ehm Qui intanto c'è qualcosa Ma vaffanculo Pensavo il telescopio Che mi serviva Scusate A salvarmi il culo Invece cosa mi danno Vedete Fucile di precisione Perché servirà Ehm Qui che cazzo È chiusa Mi serve Sì Mi serve un'altra chiave Usciamo di qua Oddio Quanto sono brutti ragazzi Vedrete 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 E quella C'è la frigorifera No È meglio che non vi dico Che cosa c'è dentro Fidatevi È meglio di no Siamo seguiti No Madonna Non lo voglio fare Questo mezzo Ho paura Ho paura Addirittura Munizioni di magnum Che noi non abbiamo In effetti Non abbiamo Ehm Hello Hello C'è qualcuno C'è qualcuno Guardatelo Guardatelo Oh my fucking god Guardatela È un parassita Vedete Ma perché fanno queste cose Questi abomini umani Perché dico io Vedete che il 4 ancora ancora Lo spirito di Resentevi Ce l'aveva Che c'è gente che dice No il 4 pure No il 4 pochettino Si salvava Qualcosa all'interno Della stanza Blocca la porta Ehm Sti cazzi Qua tutto si blocca Oh E che Che dobbiamo rompere il vetro Si Sembra Ehm C'è gente Un'autopsia Ma che autopsia Ma che autopsia Sai io che stavo Naffala È chiusa E io sta chiave Dove la trovo Il sistema di sgrezia Della porta Attivarlo No Vabbè per forza Dobbiamo farlo Eh Ehm Eh Rosso Verde Blu Ah Ok Ok Verde Ehm Rosso ora No Esatto Bingo Resta il fatto che io abbia paura Oddio Che Che schifo Promemoria di Luis 3 Guardate Sono dei Dei cadaveri Lunghi Brutti Con le dita lunghe Ma Pisello di fuori Sembrano i pisellini Vi ricordate quel gioco Penumbra Ripugnanti creature come Dovete farlo Vabbè dai Mi sacrifico io E prendo un personaggio Molto No no va bene Wukong No va bene Wukong Va meglio Wukong I will be the best Partiamo Metti te exhaust Morte se puoi Perché no No io non ho bisogno Se io che ho bisogno di exhaust Mi metto un lì Lo incorro pure se c'ha ghost Lol Si in effetti E' un ordine Intanto da notare Lo sfondo Di Nino Kuni Perché Bravo bravo Hai tolto le mie foto Ho messo Nino Kuni Bravo bravo E certo E te faccio a vedere a Youtube La foto tua Ma anche no Metti una mia di posto Eh si certo La dei bulli Si dei bulli Ti ricordi quella Che abbiamo scattato Da bulli Nino Kuni E te faccio a vedere